Anna Maria Colau, endocrinologa Università Federico II, cattedra UNESCO e tante altre cose. Grazie per aver accettato il nostro invito. Gli ultimi due anni di pandemia hanno assorbito quasi completamente il mondo della ricerca, offuscando un po' la sanità ordinaria, quella no covid per intenderci. Questo è purtroppo un dato molto negativo. Abbiamo dovuto fermare le visite due volte in modo completamente assoluto, quindi durante il primo lockdown e durante la ripresa della pandemia, settembre del 2020, con gravi disagi non solo per i pazienti da un punto di vista proprio personale, ma anche disagi sull'andamento delle patologie, sugli screening iniziali, sulle diagnosi precoci. Nelle patologie oncologiche la diagnosi precoce è tutto. Quando si è perso il tempo iniziale non è più calcolabile quale danno poi dovremo contrastare successivamente. Questo è obiettivamente un altro effetto collaterale negativo della pandemia da SARS-CoV-19. Ovviamente l'Università Federico II ultimamente ha messo in moto questa attività di FACTA, questo team multidisciplinare, questa task force per studiare gli effetti del long covid e dare la possibilità a tutti i rami di riuscire a capirci qualcosa in più forse anche. Sì, l'idea è partita dal fatto che ognuno di noi singolarmente, le singole specialità, vedevano pazienti guariti da covid con vari disturbi, varie condizioni, ma nessuno di noi riusciva ad avere un po' un quadro generale della sindrome cosiddetta da long covid. E quindi un anno fa insieme ad alcuni colleghi con cui già eravamo un po' in contatto stretto, in particolare con il mio collega della pneumologia, le malattie effettive, la dermatologia, cominciamo a pensare se valesse la pena di metterci tutti insieme, perché da endocrinologa io avevo la possibilità, dovendo studiare la riserva funzionale del surrene, dopo terapia cortisonica per lungo tempo, di far inserire i pazienti in un percorso ospedaliero. Così siamo partiti inizialmente, poi il gruppo si è allargato a quasi tutte le specialistiche, ne manca ancora qualcuna ma stiamo provvedendo a colmare tutte le mancanze, ed è nato questo acronimo FACTA che sta per Federico II Against Covid Task Force, che metterà insieme a disposizione di tutti poi i dati che stiamo accumulando. Abbiamo fatto una riunione ieri, una riunione operativa molto interessante, perché adesso ci concentreremo su tutti i pazienti ospedalizzati dal 1 gennaio del 2022, con una tempistica di controlli molto precisa, e valuteremo anche tutte le conseguenze psichiatriche di questi pazienti, cioè tutte le alterazioni del tono dell'umore e della socialità, in qualche maniera, che erano sfuggite ai primi controlli. Ecco, siamo in errore se diciamo che il Covid ha complicato un po' tutto il resto delle patologie umane? No, non siamo in errore, effettivamente c'è una distrazione di attenzione verso tutti gli altri pazienti, questo è molto grave, perché ogni paziente dovrebbe essere visto con l'attenzione che ogni medico deve mettere per ciascun individuo con la sua storia, e che purtroppo il Covid è stato così dirompente nella nostra attività clinica, che ci ha costretto a distrarre alcune risorse dalle patologie che conosciamo bene, a una patologia che non conosciamo affatto. Quindi noi stiamo descrivendo sia la sindrome acuta da Covid che la sindrome long Covid, e probabilmente, lo dico con molto, voglio dire, con molta cautela e ovviamente molta prudenza, la sindrome dipende dalle varianti, quindi non è la stessa cosa nella prima fase da variante Delta, ora con l'omicron e forse a quelle che verranno, stiamo a vedere, insomma, studiare così con i malati direttamente in campo è complicato. Ecco, per chiudere questa prima fase parlando di Covid, che cosa ci aspetta nel prossimo futuro? Quello che abbiamo visto, ed è consolidato nel dato internazionale, è che la triplice vaccinazione, cioè le prime vaccinazioni e il richiamo, ora con questo quarto richiamo per i più fragili, ha ridotto in modo estremamente significativo l'accesso alle cure ospedaliere, alla terapia intensiva e naturalmente all'evento più in fausto finale. Quindi ci dobbiamo aspettare di essere sempre molto cauti, attenti, sperando che il vaccino che arrivi riesca a coprire un maggior numero di varianti, così da affronteggiare ancora meglio la fase più acuta e severa della malattia, utilizzando le strutture ospedaliere e le terapie intensive il meno possibile per far sì che anche chi è malato d'altro, ma non di Covid, possa essere preso in carico esattamente con la stessa attenzione, nella stessa cautela di un malato durante l'epidemia virale. Quindi questo è quello che dobbiamo aspettarci, migliori vaccini, migliori cure, stanno già arrivando, e una gestione del problema Covid più ambulatoriale e territoriale che non ospedaliera. Ecco, ma non solo Covid, lei si occupa da sempre di malattie del metabolismo, quelle abitudini insane dell'uomo di mangiare, per esempio? Allora, il mangiare sano è il primo gradino, insieme ad altre procedure come l'esercizio fisico, il rispetto dei bioritmi e l'assenzione dei tossici, che ci garantisce quello che noi chiamiamo lo stile di vita sano. Il mangiare sano non è tutto, ma certamente, come dico spesso, se noi un errore lo commettiamo tre volte al giorno per tutta la nostra vita, ecco, quell'errore non può restare senza conseguenze importanti. Dobbiamo fare educazione, credo che la parola giusta da portare avanti sia educazione allo stato di salute, educazione a uno stile di vita sano, perché è da bambini che si deve cominciare a dare delle informazioni corrette e far sì che tutto ciò che non ci fa bene, noi lo dobbiamo escludere dalla nostra vita, progressivamente e sempre più continuativamente. Spesso sento a me piace quella cosa, io vorrei andare verso quella cosa che mi piace, se quella cosa che ti piace ti fa male, non ti può piacere, perché alla fine ti porterà talmente tante conseguenze negative che non ti può piacere una cosa che ti fa male. Chiudiamo con un'altra cosa importante, sono le malattie rare endocrine di cui l'Italia è un centro d'eccellenza a livello europeo. Sono molto orgogliosa del fatto che l'Italia abbia la bellezza di 22 centri di eccellenza in Europa, siamo il paese che ha avuto il riconoscimento più elevato di altri paesi d'Europa. Questa rete sulle malattie rare è un progetto nato ormai una decina di anni fa da parte del Parlamento europeo, perché c'era la necessità di dare mano ai pazienti con malattie rare, nell'idea di una medicina trasfrontaliera, cioè noi l'Europa considerata come un unico paese, e quindi il paziente con malattia rara che potesse andare da un paese all'altro lì dove ci fosse maggiore esperienza per prendersi cura di quel malato. Sai, il malato di malattia rara ha un doppio problema, non solo è malato, ma nessuno capisce quello che lui ha, quindi è un malato solo, è un malato con grave difficoltà anche di ricevere una cura appropriata. L'Italia si è sempre spesa molto per le malattie endocrine, diciamo che il mio orgoglio va soprattutto per le malattie endocrine, per dimostrare quanta attenzione, quanta qualità e ricerca abbiamo posto come comunità nazionale nei confronti di questi malati, e quindi oggi è per me da Presidente della Società Italiana di Endocrinologia davvero un orgoglio poter dire che siamo il paese che rappresenta nel territorio nazionale il maggior numero di centri di eccellenza per i malati. con malattie rare endocrine. Ecco, professoressa, intanto se da una parte i sanitari si spendono per questa situazione, dall'altra però il governo non spende per la ricerca. Non è che non spende, forse spende meno di quello che sarebbe necessario o forse non è così spinto verso la ricerca in medicina, è spinto verso la ricerca anche in altri settori, questo ovviamente tende un po' a oscurare quello che viene fatto sull'area di medicina. Io sono una ricercatrice, per me la ricerca in qualunque setting venga fatta va bene e va aiutata, va supportata, quindi non mi sognerei mai di dire che le risorse vanno tolte da alcuni settori per darle a medicina, però certo un fatto è un fatto, è la mia, come dire, la mia preghiera al governo e la preghiera a tutti coloro che ci possano aiutare è questa, la salute è il bene principale. Senza la salute tutto il resto è di poca importanza, quindi benissimo investire su tutte le aree del sapere, sull'energia, sulla ecologia, sulla ingegneria e le infrastrutture, ma ricordiamoci che per avere dei ricercatori ad alto livello, innanzitutto quei ricercatori devono essere sani, quindi non dimentichiamoci di medicina. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi.